A che nata di paura nell'alta padovana rapina in due banche, prima a Borgoricco dove rimane ferito il direttore, poi a Reschigliano ad agire la stessa banda. Un centro benessere dove giovani donne erano costrette a prostituirsi, sequestrato all'oreggia una spa all'interno di un centro commerciale arrestato il titolare. Cade a casa e si frattura un piede ma per Fabio Bergamine le cure sono troppo costose, scrive alla regione il suo appello disperato a Rete Veneta. Una violenza consumata durante una festa di capodanno nei confronti di una ragazzina di soli 12 anni, il giudice manda processo un diciottenne padovano. La patente a punti dei bar ammette d'accordo il consiglio tra dieci giorni, entrerà in vigore l'assessore Mosco, abbiamo ascoltato la città. Il monumentale Palazzo del Boa apre le porte alle visite guidate, si potranno scoprire le stanze più belle dell'Ateneo Padovano. Una via Crucis di legno, resina e polistirolo al teatro del santuario di San Leopoldo, il Vangelo Aperto di Francesco. È stata una mattinata di rapine nell'Alta Padovana, buonasera, ben ritrovati a tutti voi. Apriamo questa edizione del telegiornale con una notizia di cronaca, due rapine a Borgorico e Reschigliano in una delle due. La prima è stato preso a pugni il direttore della banca. Il racconto del signor Marcello, uno dei clienti che questa mattina era all'interno della Popolare di Vicenza a Borgorico, assaltato da due banditi armati di pistola, la rapina a mezzogiorno. Dentro alla banca c'erano cinque clienti che sono stati fatti stendere a pancia in giù. Prima uno dei malviventi tenta di entrare nella bustola, poi chiama il complice armato di pistola e con il volto coperto da una maschera e così si fanno aprire. La cassaforte però ha la chiusura temporizzata e non si apre. Hanno preso il direttore che è uscito dall'ufficio che è vicino all'entrata e che gli ha dato una pacca sulla testa che gli ha fatto sangue subito. Dando la pacca con la cassa della pistola, va bene, si è staccato il caricatore. In panico i due rapinatori desistono dal colpo, raccolgono il caricatore e scappano. Sul posto arrivano i carabinieri e l'ambulanza che porta il direttore ferito in ospedale per essere medicato. Sotto sciocchi i dipendenti e i clienti. Io ho avuto paura, ho detto quando ero stesso per dire, ho il placemaker che non mi ha fatto morire. Poco lontano a Reschigliano i due banditi tentano un'altra rapina. Esattamente 20 minuti più tardi entrano nella cassa di risparmio del Veneto in piazza Bertini, puntano le pistole contro i cassieri e si fanno consegnare i soldi. I due malviventi questa volta scappano con poco più di 3.000 euro, arraffati dalle casse e strappati ad un cliente che li stava depositando. Nella fuga colpiscono a volto un dipendente che rimane ferito lievemente. Le indagini dei carabinieri che sono conventi si tratti della stessa banda che ha agito seminando il panico nell'alta padovana. Ancora uno furto in uno studio dentistico preso di mira dei ladri nella notte. È venuto a montare in via Sakharov i malviventi. Hanno forzato una porta a finestra sul retro al primo piano. Hanno rubato un paio di occhiali, macchinari, attrezzature e medicinali. In via Volturno sempre a Padova. Invece una coppia di ladri sorpresi dalla proprietaria. Mentre entravano nel salotto di casa sono stati arrestati dalla polizia. La donna incinta era in camera da letto. Ha sentito un rumore. Ha urlato ed è riuscita a far scappare i ladri. Ancora la cronaca con un centro benessere a Lucirose. È stato arrestato un 61enne di Castelfranco con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. Guardate. All'esterno un normale centro benessere che proponeva saune e massaggi. All'interno ragazze straniere venivano costrette dal titolare a prostituirsi. L'oreggia lungo la nuova statale del Santo dentro un centro commerciale. Qui il circolo Spa Club 307 attirava decine e decine di clienti da tutto il Veneto. I carabinieri dopo una lunga indagine hanno arrestato per induzione e sfruttamento della prostituzione il titolare Alberto Mazon, 61enne di Castelfranco, Veneto. Le ragazze, tutte molto avvenenti, venivano reclutate attraverso falsi annunci di lavoro e poi costrette a prolungare le sedute di massaggio con prestazioni hot. Mazon, per non incorrere i rischi e perquisizioni, le metteva in guardia. Il titolare faceva difidare le ragazze da chi aveva questo centro meridionale perché associava questo accento all'appartenenza a forze di polizia e quindi disponeva che almeno ci fossero due o tre presenze prima di poter passare all'offerta del proprio corpo. Il 61enne Trevigiano aveva rilevato il centro benessere dalla figlia estetista e ne aveva fatto un circolo privato. I clienti, con la scusa di andare a fare la spesa al centro commerciale, vi entravano grazie ad una tessera da socio. Ogni ragazza veniva pagata circa 40 euro l'ora, un giro d'affari che fruttava al gestore anche 2000 euro a sera. L'indagine è partita da una delle ragazze straniere, sfruttate, stanca di essere molestata dal suo datore di lavoro. Ad alcune dichiarazioni di persone che avevano chiesto di lavorare all'interno di questo centro benessere, ma poi all'interno si sono accorte che non era proprio un centro benessere come vuol dire la parola, ma appunto un centro dove veniva sfruttata la prostituzione. Violenza sessuale ai danni di una ragazzina di soli 12 anni è successo lo scorso anno a Capodanno, ha processo un ragazzo, padovano di 18 anni, la procura della Repubblica di Padova ha chiuso le indagini, si appresta ora a chiedere il rinvio a giudizio. Gli abusi sessuali si sarebbero verificati durante una festa tra ragazzi organizzata dalla sorella sedicenne della vittima nell'abitazione di queste ultime in un comune dell'Interland di Padova. Il 18enne è sotto accusa a padovano come la vittima e frequenta le scuole superiori. Ed ora la storia di un uomo che ha perso il lavoro ormai da 4 anni e per una caduta fatale ora non può sostenere le spese delle cure. Ha chiesto aiuto a Rete Veneta. La Regione, per merito di vari funzionari, mi ha risposto che le leggi sono queste. Non avere nemmeno i soldi per curarsi, per pagare un ticket di pronto soccorso da 53 euro né tantomeno i successivi esami che una caduta fatale in casa obbligherà a fare. È la storia di Fabio Bergamina, disoccupato di Padova da due anni parzialmente invalido. Oggi lui sta pagando a caro prezzo il fatto di essere proprietario di una casa. Perché questa voce, insieme all'occupazione, per quanto precaria della moglie, fa salire il suo ISE a 16.000 euro, mentre l'esenzione sanitaria è contemplata soltanto per chi ha un reddito inferiore agli 11.362 euro. So di risuperare la soglia, la quota che è imposta dalla Regione, però con la moglie non ha anche i soldi per vivere, per mangiare. Chiedo cortesemente una deroga, una cosa temporanea. Senta, che lavoro faceva lei prima? Lavoravo dalla Fratelli Sartori. Fabio ci mostra le caviglie, sono così ad un mese dalla caduta ed è evidente che dovrà fare altri esami e sottoporsi ad altre cure. La sua condizione rischia però di non poterglielo permettere. Per questo Fabio ha chiamato Rete Veneta per lanciare un appello in questi giorni di Pasqua e cercare un lavoro. Se qualche azienda è in ascolto, che cerca una persona come me, ho 53 anni, però sono ancora giovane dentro, posso fare in magazzino, l'autista consegnatario, giardinaggio, in produzione, qualche azienda se vuole, in sede della Rete Veneta, ci sono i miei contatti. Come cambierà la città con la nuova patente a punti dei bar? Sicuramente i bar potranno tenere aperto almeno un paio d'ore in più ma dovranno comportarsi bene. Allora sentiamo l'assessore Mosco, per la prima volta la patente a punti ha messo d'accordo tutto il consiglio ieri sera. La patente a punti dei bar mette tutti d'accordo, anche se ovviamente il banco di prova saranno poi le piazze. La giunta infatti si è data un anno di tempo per sperimentare la novità del patentino che permetterà per la prima volta, attraverso un meccanismo che premia i bravi e punisce chi sgarra, di tenere le serande aperte di tutti i bar fino alle 2 di notte in centro, fino alle 5 fuori dal centro. Partirà da 20 punti di base e si potrà raggiungere fino a un massimo di 30 punti. Questo raggiungimento che comporterà delle agevolazioni fiscali tariffarie quindi un'importante parte premiale sarà seguita però da rispetto di alcune regole. E così tra dieci giorni e proprio con l'inizio della primavera e l'arrivo dei primi plateatici la movida padovana potrà tornare a scatenarsi riempiendo, questo l'obiettivo di vita, le piazze scongiurando così di lasciarle in mano a balordi e spacciatori. Deriva proprio da una condivisione e da un lungo percorso anche di ascolto, di dialogo e confronto con tutti, con i pubblici esercizi, con i singoli commercianti, con i residenti e con le associazioni di categoria. Da questo percorso abbiamo fatto una sintesi. Sanzioni più morbide ma pugno duro nei confronti dei recidivi. Dieci giorni ora per organizzarsi e poi la patente a punti diventerà parte del DNA degli esercizi pubblici padovani. L'opposizione ha presentato due emendamenti, ha contestato l'articolo 4, nessuna nuova licenza in centro sarà concessa se non previa presentazione di un piano di ammodernamento che sarà valutato dal Comune e poi l'obbligatorietà del patentino che non lascerebbe ai bar la libertà di scegliere se cambiare oppure restare alle condizioni attuali. E a proposito di regole, parliamo adesso delle tasse ai danni, delle slot machine bar tassati, se avranno al loro interno proprio le famose macchinette per giocare. Abbiamo chiesto il parere dei padovani. Qua penso che sia giusto perché potrebbe servire a eliminare la piaga appunto del gioco d'azzardo che si sta diffondendo sempre di più, tra l'altro ci sono pochissimi controlli trovo su queste cose e quindi sarebbe un'iniziativa secondo me utile. Mi sembra abbastanza giusto, anzi c'è una tassazione 8 tassazione quindi credo che sia corretto aumentarla. Secondo lei sarà un deterrente? Non credo. Chi vuole giocare gioca? Esatto, è come chi vuole fumare fuma. Ma lei è d'accordo che ci sia una tassazione più alta per quei bar che avranno le slot machine? Abbiamo trovato dei genitori, il governo ci fa da genitori, ci mettono in riga. Non so se sia una privazione della libertà, se sia un bene, ma non le so dire. Più tasse e eliminarle sarebbe la cosa migliore. E Renzi che lo vuole, ma ora se se il governo va benissimo anche Renzi, una roba su mille che fa. Speriamo che lo fassa, che non sia solo che un annuncio come che ha fatto fin adesso. Bisogna tutelare più chi lavora e magari chi sgarra paga. Tasserei di più il settore delle slot machine che non il barista, che è l'ultimo rello della catena. Bisogna limitare anche le giocate. Secondo lei che cosa bisognerebbe fare? Ma ci vorrebbe forse più controllo, bisognerebbe, non so, che fossero controllati di più. Ripeto, io vedo molti giovani, li vedo spesso, questo mi dispiace molto. Conoscere il Bo anche senza essere degli universitari. Per la prima volta l'università apre le sue porte. Si parte dal rinascimentale cortile antico, capolavoro del Moroni, e si arriva al teatro anatomico, uno dei tesori dell'Università di Padova, interamente in legno, realizzato nel 1595, primo al mondo preso a modello dagli atenei di tutta Europa. Il monumentale Palazzo del Bo da giugno apre le sue porte per le visite guidate. Un'apertura straordinaria nei fine settimana, sabato e domenica, quando non ci sono le lezioni, si potrà così entrare nelle aule di medicina e di giurisprudenza, nello studio del rettorato arredato da Gio Ponti. Tutti i più grandi artisti del Novecento sono passati per il Bo e hanno lasciato dei segni indelebili della loro presenza. Da Campigli ad Arturo Martini, il più grande scultore del Novecento, da De Pisis a Casarini, ad altri a Severini, Gio Ponti. Ogni angolo un aneddoto, un ricordo delle grandi menti che varcarono la porta dell'Università Patavina, che ha l'onore di aver laureato la prima donna nel mondo, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Il percorso prosegue fino alla Sala dei Quaranta, che celebra i suoi studenti illustri, dove spicca la Cattedra di Galileo Galilei, che a Padova insegnò. Si arriva così all'Aula Magna. In pochi sanno che in origine era una sala da pranzo del grande albergo del Bo, acquisito dalla fine del Quattrocento dall'Università, nata a Padova nel 1222. L'Aula è passata alla storia per aver ospitato nel 1921 una lezione di Albert Einstein. La scienza si intreccia alle vicende umane, la storia si fonde con l'arte e l'architettura, in uno dei luoghi che i padovani amano e ora potranno scoprire ancora di più. Allora oggi, in questo Venerdì Santo, andiamo insieme al Santuario di San Leopoldo per farvi vedere una via Crucis molto particolare. Un Vangelo che non è scritto sulle pagine di un libro, ma raccontato attraverso l'immagine, perché l'immagine colpisce, arriva prima al cuore e emoziona. Il racconto della Passione di Cristo attraverso legno, resina e polistirolo. Ecco le undici raffigurazioni di una via Crucis molto particolare. Si trova al Teatro del Santuario di San Leopoldo ed è esposta l'opera di Francesco. Si tratta di un Vangelo aperto, come ama definirlo lui. Ed ecco i soldati di guardia, Gesù sulla croce accanto ai ladroni, il suo corpo adagiato dentro al sepolcro e la devozione delle donne che pregano per lui. Dopo tanti sacrifici, dopo tante sofferenze che ci sono dietro qua, credo che noi alla fine possiamo essere un 1% delle sofferenze che ci possono essere passate da qua. Per realizzare questa via Crucis ci sono voluti 4 anni, ma è molto tempo che Francesco ha in mente di realizzare questo lavoro anche dopo l'esperienza vissuta a scuola. L'esposizione rimarrà al Santuario fino al 12 di aprile. Nel quaderno, in entrata, la testimonianza del passaggio dei tanti visitatori, la più grande ricompensa per il suo lavoro. Vedo che riesco a dare tante emozioni alla gente, anche andando via o per quello che mi scrivono anche sul libro, dove delle testimonianze, diciamo così, mi dicono, vedo gli occhi lucidi, gli occhi lucidi della gente. Questa sera Focus chiude la settimana con grandi temi di attualità e politica. In studio insieme al direttore Luigi Baccialli ci saranno Michele Basso, Settimo Gottardo, Laura Puppato, Fabrizio Borona, Rinaldo Veraldo, Silvano Piazza e Nicola Finco. Come sempre ovviamente attendiamo numerosi i vostri messaggi. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Un buon proseguimento di serata su Rete Veneta. Arrivederci. Grazie a tutti.